Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fibili dove si segnalano ancora rallentamenti tra Scandici e Firenze Scandici in direzione Firenze. Il traffico invece scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana, sulla statale 64 Correttana in provincia di Pistoia, per lavori nella galleria Signorino tra i chilometri 12,600 e 13,800, il traffico è regolato a senso unico alternato con semaforo. Per quanto riguarda la viabilità cittadina, Firenze in Viale Amendola fino al 15 settembre è chiuso al controviale tra Viaggio 8 e il numero civico 48. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie per la visione!